Come opera il corpo forestale nel campo del controllo degli impianti di depurazione? Il corpo forestale opera in questi casi o di iniziativa, cioè individuando delle situazioni potenzialmente a rischio e quindi magari concentrando l'attività di controllo su queste situazioni, oppure su input ad esempio dell'autorità giudiziaria con la quale c'è uno strettissimo rapporto di collaborazione per quello che riguarda ad esempio il comando provinciale di Roma. Noi abbiamo un grande rapporto di collaborazione da questo punto di vista con tutte le procure che hanno giurisdizione sul territorio della provincia. Qual è lo stato di salute dei depuratori della provincia di Roma? Quanto sono efficienti e qual è poi quindi la qualità delle acque che questi ci restituiscono? La situazione è una situazione molto variegata e direi anche complessa per certi versi. Ci sono tutta una serie di problematiche legate in molti casi allo sviluppo del territorio che magari non è stato andato di pari passo con l'adeguamento degli impianti che in molti casi sono anche impianti che risalgono a diversi decenni fa quindi presentano delle problematiche dal punto di vista proprio della realizzazione e quindi a volte i malfunzionamenti sono legati anche alla vetustà degli impianti. Altre volte capita che i malfunzionamenti siano in qualche modo riconducibili a dei comportamenti sbagliati tra virgolette posti in essere da chi gestisce questi impianti. In alcuni casi sono stati riscontrati degli sforamenti, cioè dei superamenti dei limiti tabellari previsti per quello che riguardava la qualità delle acque di scarico. Altre volte c'era il problema degli scarichi che avvenivano sul terreno senza poter essere autorizzati a scaricare sul terreno oppure semplici problemi, come dicevo prima, di malfunzionamento dell'impianto legati a comportamenti antigiuridici posti in essere da chi li gestiva. C'è tuttora il problema dell'abusivismo degli scarichi nel senso che in molti casi gli scarichi ancora purtroppo, nonostante siamo nel 2011 ancora ci sono situazioni in cui gli scarichi non sono autorizzati la normativa attuale prevede che tutti gli scarichi debbano essere autorizzati e a volte invece capita di trovare degli scarichi che non sono stati oggetto di autorizzazione ma lì il problema della depurazione viene proprio bypassato nel senso che lì non si pone proprio il problema della depurazione che non funziona lì è proprio lo scarico che non è stato autorizzato e che magari recapita direttamente in un fosso di scolo piuttosto che in un corpo recettore direttamente e lì c'è un problema che è proprio a monte, cioè quello della mancata autorizzazione dello scarico. Quali sono le zone dove avete riscontrato il maggior numero di irregolarità? Per quello che riguarda i dati in possesso del Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato sicuramente possiamo dire che una notevole mole di controlli è stata svolta nella giurisdizione ad esempio del Comando Stazione di Monte Rotondo in stretta collaborazione con la procura di Tivoli per quello che riguarda casi di rilievo mi viene in mente il sequestro che è stato effettuato recentemente pochi mesi fa nel giugno scorso su disposizione del GIP presso il Tribunale di Roma ma del depuratore di Roma Nord gestito dalla CEA Ato 2 e chiaramente si è trattato di un caso e fra l'altro il depuratore è tuttora sotto sequestro il suo funzionamento è tenuto sotto controllo anche se funziona regolarmente e chiaramente è un evento che ha avuto una certa risonanza perché si trattava di uno dei depuratori che servono la Capitale. Grazie